che è pronta è questa pasta al forno vediamo un quadro un quadro ora lo appello che viene così ditemi che vi viene meglio ditemi che ditemi qualche cosa apriamo la sporciogna un bel complimento apriamo l'aceto e poi ci beviamo anche una bella cedrata no nel senso porzioniamo ragazzi no chissà una porzione di chissà ma a gorsonomia quanto costa quanto costa la chissà fatta da me almeno 11 euro 11 euro una porzione di chissà è andata che ancora è calda calda fumante quindi va bene niente ci fa se si è pasta al forno basta al forno cioè non è che hai lasagna ma che meraviglia chi sta combinando con ma niente si lava non cerca mille che lava vabbè va a dopo buon pranzo a tutti